E ora andiamo a Genova. Nel capoluogo Ligure si stanno ultimando i preparativi per il G8. Pronto? Lorenzo? No, qui non c'è nessun Lorenzo. Ah, scusa, ho sbagliato numero. Aspetta, aspetta, non riattaccare. Sono rimasto intrappolato in casa, non riesco a uscire. Lo so, sembra assurdo, ma qualcuno mi ha chiuso dentro. Pronto? Pronto? Marco! Lisa! Marco! Lisa! La polizia ha chiuso il corteo! Sanno caricando! Corrono contro di noi! Marco! Oddio! No!